buongiorno a tutti bentornati buongiorno Gabriella eccola qui ben inquadrata cheap but chic le nostre ricette incredibili straordinarie a pochissimi euro al massimo tre oggi ci siamo dentro la grande tranquillamente facciamo un dolce oggi sono noi le chiamiamo in oltre pop avese le frittelle di san giuseppe perché la tradizione nostra territoriale vuole che il giorno della frittella nazionale sia il 19 marzo che cade nella anniversario di san giuseppe la ricorrenza di san giuseppe una volta si faceva anche vacanza san giuseppe adesso non si fa più niente è un santo che ha perso un pochino di appeal però voi chiamatele come volete l'importante che le mangiate perché le produciate le mangiate perché sono veramente deliziose partiamo con la lavorazione via partiamo con gli ingredienti eccoli qui allora mezzo litro di latte intero che è qui 300 grammi di farina bianca che è qui 00 00 6 uova eccole un limone non trattato un pizzico di sale eccolo e un cucchiaio di zucchero questo è l'impasto perfetto poi abbiamo mezzo chilo di strutto per friggere perché le frittelle vanno fritte nello strutto ok e cosa rimane rimane lo zucchero per rotolarle dopo che sono fritte a fantastico va bene questo sono ingredienti per quante persone quante frittelle e numero delle frittelle non lo so però sei persone mangiano abbastanza ok con una spesa di e con una spesa di non saprei sui cinque euro in tutto per cui cada uno è 70 centesimi 70 centesimi a seconda di quante ne mangi ma beh io per me allora sarebbe 20 euro andiamo in lavorazione allora prendiamo una mulla sì perché dobbiamo fare utilizzare le fruste eccole prendiamo la farina sì e la mettiamo completamente il latte yes mettiamo tutti insieme e iniziamo ad azionare piano piano ecco adesso dobbiamo prendere le uova sì e per comodità le spacchiamo nel contenitore perché poi lo dobbiamo aggiungere a una una a un uovo cioè dobbiamo aggiungere un uovo alla volta un uovo alla volta ok perfetto eccoli qua tutti e sei adesso riprendiamo la sbattitura mettendo un uovo alla volta e aggiungiamo l'altro quando uno si è ritenuto assorbito perfetto eccolo qua ora aggiungiamo un pochino di sale quindi qui c'è la farina il latte il sei tuorli d'uovo no uova intere uova intere abbiamo messo un pochino di sale mettiamo un cucchiaio di zucchero perfetto e ci manca la buccia grattugiata di un limone non trattato chiaramente perché biologico biologico lavato e asciugato che dà profumo l'impasto è pronto così ok allora prendiamo una teglia ok e versiamo il nostro impasto perché dobbiamo andare in forno perfetto hanno la doppia cottura queste frittelle in che senso prima vengono cate in forno poi vengono fredde ah già è vero abbiamo visto lo strutto prima molto bene questa è carta da forno questa è carta da forno accendiamo il forno a 160 gradi lo scaldiamo bene e inforniamo a forno caldo ok per mezz'ora forno caldo ma statico non ventilato perfetto mezz'ora è passata andiamo a vedere wow e la nostra diciamo torta d'impasto è pronta e la dobbiamo lasciare raffreddare circa una mezz'oretta quindi mezz'ora in forno e poi un raffreddamento di circa una mezz'oretta ci rivediamo tra poco allora mezz'ora è fredda sì sì è fredda toccare sì è fredda la mettiamo su un tagliere perché adesso poi andremo a tagliare i quadrotti che saranno le nostre frittelle ok però cosa ci manca adesso la frittura lo strutto perfetto quindi adesso andiamo a vedere la parte della frittura nello strutto giusto? nello strutto accendiamo il fuoco prendiamo lo strutto e qui e lo dobbiamo fare sciogliere completamente ah tutto insieme lo metti così? tutto insieme sì sì deve sciogliersi deve diventare liquido ok quindi pian piano si scioglie 4 minuti trascorsi strutto che sia completamente sciolto è bollente è bollente e adesso andiamo a tagliare dei quadrotti del nostro impasto per fare le frittelle ok questo è il momento cruciale perché qui o si fa l'italio o si muore nel senso che esatto bisogna avere una diciamo una cortezza allora si mettono e si abbassa l'olio la temperatura l'olio scusi scusa lo strutto la temperatura ok e si devono lasciare andare ad agio ad agio ad agio fino a che si gonfiano ok quindi piano adesso si gonfiano diventeranno soffici soffici e gonfie vuote in mezzo stiamo a vedere grazie a tutti allora leggerissimo profumo di limone nell'aria colore dorato le nostre frittelle sono pronte sono pronte sono fissime sembrano delle rose si sono diventate molto più grandi si avevamo messe sono leggerissime e adesso le scolliamo ok quindi si spegne il fuoco si diciamo che se si va avanti a friggere si abbassa il fuoco aspetta che portiamo il piatto di qua che diventa più comodo le mettiamo su carta assorbente lo strutto ha la caratteristica di non attaccarsi alla frittura e quindi rimangono belle asciutte sono meravigliose gabri eccole qui torniamo sul nostro tavolo lavoro prendiamo il piatto per impiattarle ok diciamo una cosa qui ne abbiamo realizzate nove ma ne avremo una trentina e qui ce ne sono circa una trentina ancora da fare le mettiamo nello zucchero le rotoliamo nello zucchero e andiamo ad impiattarle a me piace lo zucchero semolato zucchero semolato si può anche mettere lo zucchero a velo ma io preferisco quello semolato perfetto ed eccoci all'ultima la nona che non è l'incompiuta come beethoven le nostre sono nove compiute e sono oltre che buonissime certamente bellissime cibacic eccoci qui alla fine delle nostre frittelle di san giuseto ho detto all'inizio che è un santo che forse ha perso un po' di appeal ma non è vero perché il 19 di marzo è anche la festa del papà è vero è la festa del papà certo certo un valido santo devo dire auguri ai papà preparate le frittelle noi vi lasciamo adesso siamo alla fine di febbraio vi lasciamo qualche giorno per fare anche delle prove per chi non le avesse mai fatte vi assicuro che saranno buonissime si possono mangiare calde o fredde come uno preferisce la morte loro sarebbe un fantastico moscato dell'ultre papavese certo dico dell'ultre papavese perché noi siamo qui certo ma i nostri vini sono buonissimi esattamente come le nostre ricette grazie Gabriella grazie a te alla prossima alla prossima grazie a te